Radio W0, Radio W0, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Allora, essere un vocal coach IWA significa prima di tutto affrontare un percorso certificativo, un percorso formativo annuale. Quindi noi praticamente come vocal coach IWA ogni anno ci formiamo e quindi anche in base al livello in cui siamo e affrontiamo anche una serie di esami in cui dei master teacher americani ci osservano e ci testano, ci esaminano mentre insegniamo, quindi teniamo lezioni di canto. Mi fa piacere che mi abbiate posto questa domanda perché io credo che oggigiorno, ed è un consiglio che mi sento di dare anche a chiunque voglia affacciarsi alle lezioni di canto, di sincerarsi, di accertarsi in quali mani appunto stanno mettendo la loro voce perché oggi c'è un attimino, non c'è molta attenzione rispetto proprio alla preparazione tecnica dell'insegnante. Essere insegnanti di canto, vocal coach, non significa saper cantare e basta. Tu puoi anche saper cantare ma puoi non saper gestire la voce degli altri. Essere un vocal coach highway significa appunto saper gestire le molteplici voci che possono capitare nel nostro studio, quindi noi aiutiamo i singoli cantanti con le loro singole difficoltà tecniche a appunto superare queste difficoltà e quindi ad utilizzare la loro voce al meglio. Il sogno di ogni cantante è quello di poter utilizzare la voce in maniera appunto senza sforzo e con potenza, quindi il vantaggio principale che ottengono è proprio questo, cantare facilmente così come si parla attraverso i passaggi vocali appunto da voce di petto a voce di testa. Ovviamente con questo migliora l'intonazione e migliora anche proprio il poter padroneggiare la voce anche nelle dinamiche, dal piano al pianissimo al forte. Senti, questa storia delle lezioni via Skype in realtà sembra, magari qualcuno sente e dice ah mamma mia non funzionano, invece in America oramai è storia vecchia e lo stesso Michael Jackson utilizzava questo tipo di lezioni quando addirittura Skype non esisteva, addirittura faceva lezioni telefonicamente. Infatti ci sono su YouTube delle registrazioni che potete tranquillamente consultare. Ritorniamo sempre al discorso che dicevo prima, essendo un metodo basato su causa e effetto è poco importante che l'alunno sia presente appunto in persona o attraverso uno schermo perché l'esercizio se costruito correttamente che tu sia davanti a me appunto in persona o che tu sia su Skype sortirà comunque l'effetto appunto desiderato. Allora, una lezione di canto è strutturata in modo molto semplice e solitamente durante l'ora dedico una prima mezz'ora proprio agli esercizi vocali che vengono appunto costruiti apposta per quella voce che ho in studio in quel momento quindi con una tendenza vocale particolare costruisco appunto una serie di esercizi specifici e poi nella seconda metà invece dell'ora si passa a applicare appunto la tecnica ai brani quindi praticamente proviamo a cantare un brano e proviamo a superare le difficoltà applicando la tecnica. Allora, il metodo nasce negli Stati Uniti appunto grazie alla collaborazione di un gruppo di master teacher i quali appunto mettendosi insieme hanno unito la loro in alcuni casi ventennale o addirittura trentennale esperienza nell'ambito appunto dell'insegnamento della tecnica vocale e la cosa particolare è che questo metodo prende spunto dal canto lirico italiano cioè proprio loro nel concepire questo metodo si sono ispirati al nostro canto lirico e come dicevo prima hanno pensato di ideare una serie di... hanno pensato più che altro di studiare l'effetto che possono avere determinate consonanti determinate vocali insieme a delle scale melodiche ma anche vedere quale effetto sortisce ognuno di questi elementi il vocal coach mettendoli insieme quindi mescolando consonanti vocali e scale melodiche appunto ottiene un esercizio che come dicevamo prima viene costruito appositamente per la singola voce radio doppio zero suona ciò che ami più suona e più la ami grazie a tutti grazie a tutti